Gentili telespettatori, buona giornata. Oggi le dinamiche intorno alla politica e nella politica sono degradate a un livello mai raggiunto prima. Perché? Assistiamo a un'opposizione che è inesistente sotto l'aspetto dei contenuti, un'opposizione senza contenuti. Una scatola vuota che ha come obiettivo ovviamente di opporsi a qualsiasi cosa che fa il governo. Come? Non avendo più argomenti, quello che rimane a quest'opposizione è opporsi negando tutto quello che succede e dando una versione opposta anche se grottesca o ridicola. Questo non solo dall'opposizione come politica, ma anche degli organi di informazione che spalleggiano la sinistra. È cominciato prima nella politica o prima negli organi di informazione di sinistra questo nuovo modo di vedere la politica? Cioè quello di contrastare a tutti i costi quello che viene detto nel centro-destra. Dove nel centro-destra perlomeno c'è una visione per il futuro, ci sono delle prospettive, vorremmo fare questo. Mentre nella sinistra non c'è nessun vorremmo fare, non c'è niente. Addirittura i quattro candidati alla segretaria del PD hanno tirato fuori l'agenda Letta, cioè stanno riproponendo le stesse cose che diceva Letta e le cose che diceva Letta non erano nient'altro che 3-4 cavolate trovate nei cassetti polverosi del PD che vengono riproposte ciclicamente, come la patrimoniale, togliere ai ricchi per dare ai diciottenni perché poverini durante la pandemia sono stati a casa, così gli diamo 10.000 euro così magari ci votano, non so il DDL Zanlo, i Ussoli. Queste sono le priorità della nuova sinistra che sta nascendo, pensate un po'. Pertanto oggi vediamo sui giornali e anche quello che dicono i politici che è esattamente l'opposto di quello che dicono gli altri cioè una cosa può essere vera o falsa, oggi può esserci il sole o nuvoloso o sta piovendo non può un giornale o un politico da una parte dire c'è il sole, dall'altra parte dire non è vero sta piovendo non è mai apparso il sole oggi. Stiamo notando per esempio sul caso cospito, sulle intercettazioni su qualunque tema sta uscendo, che opposizione e governo dicono delle cose diametralmente opposte ma opposte agli antipodi che significa che una cosa è vera e una cosa è falsa. Dice su quella cosa la vediamo in maniera leggermente diversa, no. Le dichiarazioni non sono mai esistite, no, sono nell'informativa del DAP. Noi non abbiamo mai parlato con i mafiosi e nell'informativa c'è scritto che hanno parlato con i mafiosi e le intercettazioni le vogliono togliere ai magistrati che indagano sulla mafia e il governo dice mai parlato di togliere le intercettazioni a chi indaga sulla mafia. Ecco, c'è questo nuovo modo di fare politica che è lo stesso utilizzato durante la pandemia. quando andavano in televisione medici vax, no vax e dicevano esattamente l'opposto esattamente e completamente l'opposto ma che cosa porta questo? Porta le persone alla confusione dice beh, ma io volevo avere le idee più chiare sul covid, accendo la televisione e trovo che gridano, che si azzuffano, che uno dice verde, l'altro giallo, l'altro blu dicono cose completamente diametralmente opposte uno dice che funziona, l'altro dice di no e sono medici uno dice che va bene, l'altro dice di no uno dice sì, l'altro dice no l'altro dice a questi effetti e l'altro dice no alla fine a chi credi, a quello che ti sta più simpatico com'è possibile che medici dicano cose diametralmente opposte? vuol dire che se sono opposte una è vera e una è falsa se le due cose vanno più o meno nella stessa direzione tu puoi dire la vedo più o meno come il primo, quella del secondo ma quando vanno in direzioni opposte significa che una è vera e una è falsa questo modo di vedere di vedere la pandemia è passato anche alla politica dove oggi ad esempio sui documenti segreti o non segreti di cui ha raccontato Donzelli in Parlamento che stiamo vedendo in questi giorni la metà degli organi di stampa sono documenti segreti c'è la prova l'altra metà degli organi di stampa non sono documenti segreti c'è la prova alla fine a chi credi a quello che ti sta più simpatico al giornale che leggi sempre perché stanno dicendo due cose diametralmente opposte documenti segreti documenti non segreti poi arriva la dichiarazione del ministro della giustizia che dice non sono documenti segreti lo stesso giorno la stampa di sinistra dice no sono segreti ne abbiamo le prove ecco e allora la gente a che cosa deve credere dice ma l'ha detto il ministro della giustizia e quelli di sinistra dicono lo dice perché deve difendere ha l'ordine della Meloni di difendere i due del mastro e donzelli quindi c'è poi anche sempre una sottogiustificazione sono segreti abbiamo le prove non sono segreti abbiamo le prove e poi c'è la sottogiustificazione ah beh sì dicono così ma in realtà lo fa per difendere i due uomini ma sta mentendo al paese alla fine quello che portano è solo confusione e una nuova polarizzazione grottesca tra destra e sinistra dove alla fine se sei di sinistra devi dire che tutto quello che dice fa la sinistra è vero ed è opposto quello che fa la destra se sei di destra devi dire che tutto quello che fa la sinistra è sbagliato quindi i due poli si allontanano dove tutti e due pensano di avere ragione di essere nel giusto e gli altri sono bugiardi nel falso dicendo come vi dicevo cose diametralmente opposte che non è possibile quindi la battaglia non è più sui temi ma sulle menzogne grazie a tutti e arrivederci a presto